Pronto, pronto, maresciallo! Video, video, appuntato! Maresciallo, noi il controllo l'abbiamo fatto! Tutto a posto, ai! Ah, mi fa piacere! Eh, però c'è stato solo un problema! Un problema? Eh, quale problema? Eh, maresciallo, ehm... Dove sono scappati? Ah, no! Meglio! Però, ehm, siamo scappati noi? Oh, oddio mio! E come mai? E non lo possivano!